Sì, è stato detto, è stato detto Allora, Ropetti, 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 Ropetti Anzalò, Anzalò Beniti, Gennaro Betti E poi mi supera Roberto Gennaro Betti Bravo Gennaro Come va? Ce l'hai il piano per dire qualcosa? Gennaro, che ha detto? Un attimo Vediamo il terzo posto Francesco Fama E poi Bravo Parro Mari Allontanatevi dai tappeti, più dietro Non li fate fermare là Con i biglietti ti devi mettere più dietro Che i biglietti più dietro, non in mezzo dietro Gennaro Agostino, che mi chiede? Dietro ai tappeti Allora, in uno discorso di precedenza Non stanno per togliermi Stanno per togliermi Stanno per togliermi Stanno per cento Allora, Stanno per togliermi Di là, signora Allora, signora, stanno per i biglietti Attraversati adesso grazie bravo su intanto Valerio Adano e Antonio Farina Antonio Valerio allontanatelo dai tappeti dietro i tappeti allora come è stato oggi? basta forza ragazzi passate dietro i tappeti per piacere tantaglione Antonio ancora vivi il vecchietto tra i giovani il vecchietto tra i giovani il vecchietto tra i giovani un cinquantenne in mezzo a questi ragazzi cinquantquattro cinquantquattro lo vediamo di sera di sera è duro eh? non ho saluto un pezzo di tante è solo questione di allenamento tutto si può fare anche lui ti sei vengente ti sei vengente 45 anni 46 anni tra i vengenti ci difendiamo come è così importante esserci sempre grazie Lerlo bravo bravo Lerlo al traguardo forza ragazzi Mozzillo Raffaele Pinocchi Bartolomeo e di Giuseppe Raffaele forza Gerao che tempo Raffaele Gerao c'è un minuto bravo bravo piccolo Sebastiano e poi Perciacano Bambine e ancora Pasforino Marco Bossone Rasaleno Granata Raffaele Lerlo un altro un altro vecchietto tra i giovani bravo Lerlo e Marino Stefano forza ragazzi ancora vieni Martone Angelo Granata Francesco e a parte Antonio Simba Casavoce è lui che è sempre presente parliamo di Viola Angelo ancora vivi di Raffaele Vincenzo Marlon Grae Frattese accompagnato dal suo amico Tramontano Raffaele e a seguire Monteforte che faranno via cerra forza ragazzi bravi complimenti a tutti voi De Lucia De Lucia Filippo passo 8 anno Giorgio ancora arrivi Peppe Giardullo vai Peppe bravo bravi ragazzi e poi della vittoria Antonio Maldomone Sebastiano ancora vivi un arrivo in discesa è sempre piacevole forza ragazzi spingete tutto Fusco Pietro Luigi e Ciaviano c'è forza ragazzi via 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 bravi Bussone Sampo D'Arzo Antonio Cimmino Francesco Marla Salvatore Papa Pasquale e Cianciano Gaetano della polistica frattese vai Michele 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 mando il nostro tipote domenico fratello del più con la Vincenzo Campocci Vincenzo Franco 38 minuti Franco è stato una icona del budismo in campagna e ancora bene Ancali ancora presente Benciven Capitani Cisora Anco forza ragazzi Sommese Sergio via ancora vivi Costanzo Pasquale Roberto Gianni Francesco Domenico Emilio Ciro Gaudiano Danilo Dinunzo Andrea Ancora Antonio C'è un turno Armando Romano Salprizio Pala Domenico Bravi ragazzi tutti voi Vai Buon Viva Anche Buon Parlando Benissimo Ancora Ancora Vivi Messina Settembre Inzo Gian Nicola Bravi ragazzi Martino Poi Pietro Pascarello da Stefano E poi Crescenza Braco Scorriolo Giuseppe Per adipatare insieme Maria Cifrancesca Prima donna Prima donna Ciò Pato Armando Maria Cifrancesca della Anna Anche tu hai finito la tua corsa terza donna al tuo accordo forza ragazzi forza Marcellise brava bravi ragazzi atletico San Nicola Pasqualeo Lacino vieni via ragazzi brava bravo Vincenzo Ciliello Michele Spargo forza ragazzi è finita anche per voi forza forza bravi 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 Massimo hai detto che non stavi bene sei infugiato Massimo 41 minuti per te forza che non lo cantevano Italo è un po' pesantino però forza ciao Bernardo Antonio bravo Bernardo Di Vico come va? potrebbe andare in vai io dico forza Juventus eh lo so che ti cazzi eh Mario Pove grandi tifosi del Napoli forza ragazzi via via e fatta ci sta di Somma Giovanni forza Nataloni via ragazzi via 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 bravi bravi la polistica e l'atletica marcianese insieme che è da volere forza ragazzi Luigi Luigi Casale si Casale si presentatore Antonio Corvino che ti aspetta il 5 di novembre a Casal di Principe forza ragazzi forza 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 bravi bravi tutti bravi bravi e finita 4-25-8 al chilometro 4-25-8 brava l'atletica marcianese ci sta forza rappresentare il sforzo palla via ragazzi la volta ci sta via via non passate più davanti per piacere forza ragazzi eh la che già fai la ragazzina di Sinicero 17 anni forza la tifata l'amers con 5 grano un belto al passaggio Vincenzo Perraiono primo della polistica a Caserta vai andro Luci mi sei fatto male da Vincenzo Perraiono stamattina polistica a Caserta forza ragazzi ancora a Caserta sì di San forza la via ragazzi ancora mi sta sentendo tutto mi sta sentendo tutto forza ragazzi ma se non ti diceva niente brava attenzione 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 piano 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 ancora al traguardo piccinino Girono si fa tanto pepe di Caterino forza forza Cassi via ancora arrivi Vincenzo passaggio al tuo quadro l'aria ancora due mani alzate due mani alzate sono quelli di Camaro e il Presidente Vincenzo Cilino forza ancora vivi via ragazzi benvenuto negli Stati Uniti di Madaloni ecco il suo mando rappresentante ci gara che ci saluta ogni mattina da Madaloni forza ragazzi ancora vivi uno un po' 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 ragazzi quanto siete qua ecco la la vostra carissima ciclista Caricchio Filomena che lascia credami la domenica e ci delizia con le scarpette in corso forza ragazzi via 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 campini sotto c'è e lui c'è l'arte cosa ci sta bravi 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 preferisco te Agostino devi volere allora forza l'unità ci sta e c'è sempre Mauro Tomaso presente in cui appoglio ingegnere Gianfragomianco al traguardo insieme a tanti altri forza vettorale 273 la corsa del centurale risposto Luigi amatori dei sui forza ragazzi bravi bravi giunti all'arrivo un'altra signorinella e poi salvatore la cosa si è fatta meglio via ragazze guerra è una vita e amoroso Luisa forza ragazzi Papa del Santo un altro casale 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 si 5 il 5 di novembre a Casal di Principe da 10 km seconda edizione forza ragazzi i frattesi sono chiaccio socio e orifiche Raffaele e poi il nostro caro Cinevo Luigi Pino 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 Piscione Poliziano Alberto e Cicero Giuseppe che non si stanca mai di culpe quanti anni sono Cicero che culpe 30 anni bravo Cicero forza ragazzi che finiremo da Mattoloni è sempre un piacere venire perché mi ricordi cose carine mi ricordi cose belle forza ragazzi Agustino insieme allo cipriani e ancora arrivi forza ragazzi ancora una donnina è di fratto si chiama Casino qui la mera attenzione signora ancora una ragazza via giunta che è finito Piscinelli l'operta di Riardo forza ragazzi andaggia Fusco Genaro ci siamo ragazzi ma quanti ne siete però ancora vivi è esposto Anna Maria di San Nicola di San Nicola di San Nicola bravo ancora la Mattolonesi forza le ragazze di fratta via D'Ambrosio Franca via ragazzi è finita 48 4 e 48 al chilometro 4 e 50 forza ragazzi 4 e 50 Giovanni 4 e 50 al chilometro Inzo Giovanni forza anche per voi 4 e 50 al chilometro Anna Maria l'amico con Antonella Sianidro 4 e 50 4 e 50 al chilometro via forza forza 4 e 52 4 e 52 al chilometro a piedi sono i 5 4 e 50 viaggio 4 e 54 al chilometro Antonio via 4 e 54 per il primo di carreria forza ragazzi rispettore tu non passare via 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 bravo un'onore per l'ispettore e un'onore per Matteo e per i ragazzi di Marcia di Ise anche Antonio Ciccone al passaggio e da per la mascolina il nostro caro Robertino forza ragazzi della peruta Angelina ancora via Giordano Simone forza ragazzi bravi tutti levo levo forza bravi via ragazzi complimenti a io ho chissi a Maria Carmina e complimenti a Anna e Sposio Maria ancora vivi a Ilu Giuseppa bravi bravi ragazzi Silma da Casa Lugo ci sta ed è presente forza ragazzi via 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 bravo bravo Milena è stato alla stanza della becca Madonna e poi andata via bravo Anna imperatore è finita l'imperatore forza ancora arrivi ancora Patroni dai Norco Iretta e poi Fulti Basilio forza ragazzi bravi bravi a tutti voi 51 minuti alto Martucci 5.06 al chilometro e anche questa è andata dietro dietro le meccaniche forza e poi la nostra cara il libro Carmela al traguardo è ancora fratta lei è Stokstar Tejana scusate ancora Marciolise forza ragazzi lei allontanatevi 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 donna allontanatevi fuori 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 dai tappetini fuori dai tappetini forza ragazzi parisi salvatore al passaggio e poi la nostra cara Magno Ursula Magno ragazzi ancora arrivi forza forza ci siamo donna Horacio Orlando Antella anche l'altro Marlo Marchetti Antella Atletica Marciamise non passatevi qua per piacere per piacere lasciatevi dai lo rivisti vantaggio forza ragazzi ancora bravi bravi tutti voi bravi le ragazze della Marlo Controttese Vincenza e Antonella uscite fuori dai tappeti mettetevi inoltre il tappeto non ti passano i tappeti forza ragazzi ancora vivi vinceremo per stare a tra quanto la Brune momentana forza ragazzi forza forza ancora la potistica casetta la congine Antonio e Lucio Perna Mimì forza i due Mimì e Eugenio Gallina insieme al 71 di turno ciao ciao Michele ancora vivi forza ragazzi bravi tutti voi bravi Casper e di Sanco Casper e di Sanco tutti i malattoletti degli anni 90 vieni ragazzi luigi dell'atletica di Sanco Luigi per la di San Marco evangelista però l'aner di Sanco ha scelto Sanco per la sua resistenza forza ragazzi l'atletica l'atletica dolcetta ci sta ed è di Sanco iniziano forza ragazzi ancora vivi per trovare il 300 per l'avvocato Maria della 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 Sessono ancora vivi ancora vivi viviamo questa dolce donzella accompagnata una piccata e una potistica frattese e poi ancora vivi gli ragazzi di Milano Giovanna e Giuseppina Cenerito e poi c'è lui lui quello della domenica che mi aspetta la domenica mi aspetta San Marco Luigi Barbato che mi aspetta la domenica complimenti pettorale 4,90 per Izzo Cecilia dell'atletica Caves ancora vivi siamo a 55 minuti in Italia 5,30 al come ragazzi ma voi non dovete stare in mezzo lì forza ragazzi forza 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 fino all'ultimo respiro via bravi 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 ragazzi signor ragazzi grazie 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 col precedente vi veniamo a portare via ragazzi non passate qua davanti ragazzi mi riservirei allora 56 minuti a prenda 5 e Caterina Messico a te Marcianisi ha detto il tuo Presidente che oggi non ti farà mangiare forza ragazzi Fontana ci sta e anche i frattesi Cristiano Serafina dalla budistica frattesa ancora i mattonesi i diretti e il comandante della stazione Carabinoni è più famoso il comandante della stazione Carabinoni è sempre un piacere stare qui forza ragazzi ancora vivi noi siamo con Casora Pelegrino della Cicciama Rannes ancora arrivi ancora politica frattese amatomi frattese Russo Carabin forza ragazzi più Peppe stiamo aspettando te Peppe Salcone forza il rosiglio della gara bravo Peppe ah Peppe Odice aspettate un attimo allora c'è un caro amico mio che siamo conosciuti trenta e passi anni fa per modini da un ex ex per pista siamo a pista l'ingegnere sposero salutando tutta la cittadinanza di Portino e di una cittadinanza campagna forza si Peppe Castano si Peppe Castano forze piano si Peppe e poi Biancatti e Vanna e vanno ancora vieni 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 e poi ci sta Biancatti e Vanna e Vanna Rosalia e Salerno Marco e poi ragazzi ti siamo forza ragazzi San Marcellino ci sta eccola lì dove sta il tuo monoloso dietro di te buongiorno benvenuti a Portico Maronti Carlo e Torascimento Maria sempre insieme sempre insieme forza ragazzi Madoloni ci sta come sempre continuate un ricordo ancora vivi brava brava gioia paola felice salami forza ragazzi colonello colonello di uno scatto colbino per il colonello d'orso al vento via ragazzi forza forza ragazzi per il salvatore e se non faccio il poveri ragazzi non parlo ancora signor Daniele Casale si aspetta stanno i frattesi stanno i frattesi davanti bravo 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 lupo 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 forza ragazze 41 40 41 40 40 cartino d'Antonio al tramalbo dei notari e poi Carlo Salvatore silva da casa al nuovo e esalti si riusciano pure spostare la felicità ancora lupo si fatta ragazzi via 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 casa Lucia Angelo è bravo 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 ragazzi marciate Patrizia di Giovanna siamo un'ora 01 e 6 e 9 di l'amico vincenzo amico politica frattese al tuo guardo forza ragazzi grazie prego 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 con calma grazie 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 a antonella 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 bravo antonella bravo bravo antonella che si è sacrificato accompagnandole maria maria forza senza di te non si giuro la forza maria il più bel completino della campagna la maria eccola qua forza 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 fattore rosanna e poi gallano vado Elena falla inserire sono l'uccinto di Mario che è successo che è successo stamattina che è successo la ricca la sentita la sentita la sentita la sentita la sentita bravo 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 salvatore rubetto salvatore ancora arrivi ancora fratto ha pagato bella ragazzina qua pita pita non c'è passata da uozi ma non c'è passata ma non c'è passata qua pita pita perché non ha fatto passata In Ingeniere, in Ingeniere, che è successo? Che avete fatto ieri Sì? Quello che gli ho detto io, De Santis Pietro, Sì, ma Casalnuo, e poi ci stanno a Berna Vincenzo, a Rotone Vesuvio, e poi Sè per Caterina, e il profeo Paolo. Allora, comunicazione di servizio, per i due oltreottantenni, la previsione è prevista su un palco, sotto il monumento di Cadù, Ingeniere, per le tue settantacinquenni, le tue settantacinquenni, non parlavo di Ingeniere, no, no, non parlavo di Ingeniere, ma già parlavo di Ingeniere, Ingeniere, come buona, brava Ingeniere, Luigi, allora, e che parliamo a fare? E che parliamo a fare? Un'ora e 05, mi devo parare, mi devo parare, però tu hai la lepre, anzi, potrei dire un'altra terminologia, non adatto alla mia, lasciamo qui. Non voglio niente da lei, da lei e dal suo amico accompagnatore, accompagnatore. Allora, un'ora e 06, e ancora arrivi tanti amici che hanno onorato a dire la diciassettesima edizione della politica portichese, con la loro presenza, con la loro simpatia, con il loro sacrificio, con il loro sudore, sono stati presenti stamattina a riempire la piazza e far sì che diventassero 800 gli iscritti a questa manifestazione. Ancora arrivi, loro sono di Caimano, sì, le vedo ma lontano, sono loro, sono le ragazze di Vincenzo Celietto. Mamma mia, quanto sono... E tu che ci fai qua? Angelo, Speranza, Concenta, Antonietto, Michele, Forza Michele D'Urso, uno dei pochi rappresentanti da Napoli Org, infiniata tra Michele, presente come sempre Michele. Michele, quando vedo lei, in avvivo. Ciao a te, sei venuto correndo, vai via correndo. Volevamo la tua presenza qui. Andrea ci aspetta il 22 di ottobre per la decima edizione della Staca Salgiovese, gara che purtroppo presento io da dieci anni e quest'anno sarà l'ultimo perché voglio anche denunciare le spese. Signora, San Marco, i Leoni di San Marco, la nostra signora Calozza Anna Maria, i Leoni di San Marco presenti. Inizio siamo arrivati a un'ora e 08. Sarebbero 6,48 al chilometro. E c'era anche il professore Umberto Barbato. Eccolo qua, il professore presente con i suoi 82 anni a traguardo di Portico, insieme a Chiaro Alza e Giorgio, che corriamo insieme. No, non sono di qua, eh. No, sono di a Rior Irpino. No, è che sono di qua. E noi corriamo insieme da 25 anni, penso. Sì, fu una delle prime gare, 25 anni fa, 25-28. Il professore Umberto Barbato, che una volta mi dediziava con le foto. Il professore Barbato. Le foto, il professore Barbato. Barbati! Barbati! Lidia! Il traguardo è qua, Lidia! Forza! Brava! Brava! Brava, brava anche tu! Brussoliglia! Sessual o sessual? Ago! Ago! Tira la gomma a bugata! Vai! Gallalazzo Agostino! Grande albero di Pugilato! Il papà è stato un grande rinambiente del Pugilato! Quando quel ragazzo vi era piccolino, piccolino, pazzino, pazzino, a partire dello sport di casetto, noi ci venivamo a fare la motta, la lotto vittica, e lui veniva a fare con mania al papà. Prego! Antonietta, auguri, la dedichiamo a te! Buon compleanno per i tuoi 60 anni! Sei forte! Non sapere nessuno! Luigi! Luigi di Salerno! Luigi! Salvatore! Salvatore! O le volte, salvatore! Lo avevo detto anche ieri sera, a mezzo web! Qui andiamo a mangiare presto! Ma come sta notte? Un'ora e dieci, Salvatore! Grazie per essere venuto! Di giorni, Michele! Bravi, bravi tutti voi! Dario Alpina e Bramola! Mario della Trega di Verona! Ancora vivi! Forza ragazzi! Bravi, 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 bravi a Anca Caterina, dell'Atletica Scafati! Brava Caterina! Allora, comunicami di fermizio, per le foto di questa manifestazione, su Facebook andate a cliccare Piccirillo Fotografia. Ripeto, Piccirillo Fotografie. Tra qualche ora, tra qualche momento, tra qualche giorno, troverete le foto di questa manifestazione. Aspettiamo ancora, peggio, un'ora e un quarto. 740 arrivati. Allora, 740 sono gli arrivati fino adesso. Penso che, tranne i non partenti, mancheranno 7-8 persone. Pasqua, non credi proprio. Salvatore Coppola, salvatore, mi sono dimenticato di dirti che è mortico, si mangia a mezzogiorno. E allora, ecco, bisogna dire che tu vedevi. Salvatore Coppola, amici del fotismo di Marta 12, un'ora 12.40. Salvatore Coppola, amici del fotismo di Marta 12, un'ora 13, 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 un'ora 13. Si stavi un po' perdita, come infatti, la fogna attesa è per una r Creo Test. Si ma perdita. Si ma perdita. Si ma perdita. No, ma lì hai tutto. Ma io v exemptro un l'inizio. Le i合 Respect da Toà 12 i 1,助 Te breaking to earth, non un po'. No, li 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 li, papa del T andate con un pa... Non ricevo un o' a mezza un oderio. Bastia. Ci mandi un nen functions, ma adesso tu vuoi pensare. A некотор in arada, che tu guido solo. Chi di un tema ecsto dellaategia è più sottile,してih scappate. dovete aspettare qua sul palco sul palco Newton ancora ancora vivi forse ragazzi con calma con calma mi raccomando non si fingete bravi 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 del Luca Antonio cantone Maria Viglia del Luca Tommasina e poi ci sta Clemente Clemente grazie Clemente